A Fabriano abbiamo intitolato questo mese digitale, che possiamo chiamare anche mese degli hackers, intesi come persone creative che sperimentano soluzioni in vari ambiti. In particolare andiamo sul digitale con una serie di eventi, perché a Fabriano c'è il gruppo di software libero PDP, che si riunisce nella biblioteca pubblica, in particolare nello spazio chiamato Makerspace, che organizza tutta una serie di attività. Una piccola rivoluzione digitale combattuta a suon di programmi informatici aperti e condivisi, cervelloni decriptati anche per chi non mastica bit e linguaggio da programmatori. Ecco Fabriano nell'epoca post-fabbrica e candidato ad un ruolo nuovo tutto al digitale, consumato in gran parte negli spazi pubblici della biblioteca e del Makerspace. Per la città della carta, i suoi hacker, guai a chiamarli pirati informatici, un ottobre di eventi che culmineranno sabato 22 nel Linux Day, per le Marche Anchefermo, Recanati e Urbania, la giornata del software libero negli spazi comunali. Il Comune di Fabriano che patrocina l'attività e presenterà gli open data pubblicati appunto proprio dal comune, dal servizio comunale, e il sistema informativo territoriale che consente di gestire la pianificazione dei lotti, del Catasto e altre cose che ci presenteranno. In più parleremo del Totem Multimediale che recentemente è stato assegnato come sperimentazione proprio al Makerspace della biblioteca e lo stiamo rimettendo in piedi. 29 invece c'è un altro evento che è Al Creativity, di cosa parliamo? Al Creativity è una hackathon, quindi una maratona di programmazione, che andrà avanti per 24 ore ininterrottamente e diciamo i programmatori si sfideranno a gruppi per realizzare una web application nell'ambito degli open data. Per ora è stato dato questo ambito molto ampio, web application con open e big data, e il tema specifico verrà dato solamente agli iscritti il 27. comunque dopo il termine delle iscrizioni, che è il 25, l'iscrizione è gratuita e c'è un G8 premio in palio, 3.000 euro.